Amici sportivi di Entra Tv, benvenuti a una nuova puntata di Punto Sport, qua dai studi di Lavagna, il calcio giocato mai sgoccio, c'era solo il Levy che giocava ieri e ha vinto a Molasano contro il Ponte Decimo, ha vinto 3-0 e quindi praticamente ha staccato il biglietto per poter partecipare il prossimo anno al campionato di promozione, quindi un record storico questo per la società bianco-rossa. Mentre per quanto riguarda novità a livello societario possiamo dire che c'è stato ormai il passaggio di consegne tra Mario Arioni e Stefano Rissaliti appunto per la presidenza del Sesti Levante, Arioni che lascia dopo 14 anni, quindi il chiave di Caperana l'anno prossimo non si dovrebbe iscrivere al campionato di sedili, usiamo ancora il condizionale perché potrebbe esserci qualche acquiriente ma sembra molto molto difficile. Però stasera abbiamo due grandi ospiti per parlare appunto di Vieto Centella, partiamo con Sergio Spalla che vedo subito alla mia sinistra, vice allenatore della Vieto Centella, ciao. Buongiorno a tutti. E poi Luca Prina, allenatore appunto bianco-celestre, ciao Luca, grazie per essere venuto dopo mesi, mesi, mesi di corteggiamento, un lungo corteggiamento. Allora, sono passati un po' di giorni appunto dalla vittoria del campionato e vi chiedo subito se avete metabolizzato il fatto che avete portato una squadra, una realtà importante come quella della Entella però in serie B, che qua da queste latitudini non si sono mai viste. Ma se devo dirti... Il sospiro tu è abbastanza eloquente. È eloquente, pensavo è stato tanto così sognato questo raggiungimento di questo obiettivo, se devo dirti pensavo una gioia diversa, nel senso che poi è talmente una cosa strana, talmente una cosa importante ed è stato un percorso talmente molto lungo che probabilmente non c'è una gioia immediata. Quindi ci sono stati dei giorni per capire effettivamente quello che avevamo fatto, ovviamente almeno per quanto mi riguarda, appena è finita la stagione, completamente ho iniziato a rendermi conto di quello che abbiamo fatto. E devo dirti che adesso iniziando a guardare partite di serie B, a parlare di giocatori di serie B, di cose da serie B, anche con Sergio, c'è la frase che ci esce dalla nostra voca tutti e due, ma ti rendi conto dove siamo, che cosa effettivamente abbiamo fatto. In effetti devo dirti anche l'orgoglio di averlo fatto in un posto dove insomma non si era mai riusciti, ecco questa è la fotografia a oggi che io ho dentro di me, ma è giusto che sia così perché poi soprattutto per noi allenatori le vittorie vanno dimenticate in fretta e bisogna concentrarci subito sugli obiettivi. Anche perché dopo la vittoria con la Cremonese tu già pensavi alla Supercoppa come minimo, eh? Sì, sì, ma noi abbiamo un grande obiettivo che è quello di crescere tutti insieme come mentalità e ogni competizione deve essere vissuta per cercare di portare a casa al massimo, anche se poi purtroppo non ce l'abbiamo fatta, perché è la realtà della serie B, noi siamo passati in tre anni dal rischio di andare in serie D a trovarci in serie B. Il salto è fortissimo e non è solo un compare di giocatori che ci permetterà di stare in categoria, sarà una valutazione, una fotografia a 360 gradi sulla dirigenza, sullo staff, sui giocatori, sulla gente, sul pubblico, sulla mentalità che dovrà avere la gente, dobbiamo maturare molto, capire la categoria che andremo a fare, una categoria dove la media per una squadra che si salva con un campionato normale a 50 punti sono di almeno 15 sconfitte a campionato, significa in un campionato perdere tanto quanto ha perso Lentella in quasi tre anni e quindi la gente deve capire che non è più il momento delle grandi vittorie, ma solamente delle grandi sofferenze per raggiungere un grande obiettivo che è la serie B per Lentella, mantenerla significa come veramente vincere la decima coppa o anche di più, perché è una cosa mai avvenuta. Sergio hai metabolizzato? C'è voluta una settimana direi, anche perché prima c'era talmente tanto la concentrazione per raggiungere l'obiettivo, soprattutto nell'ultimo periodo che è stato molto intenso, che poi c'è voluta una settimana un po' per capire quello che avevamo fatto, anche come diceva Luca prima, adesso girando, vedendo un po' questo campionato che dovremmo andare a affrontare, andando a vedere delle partite, ci stiamo cominciando a rendere conto di quello che è stato raggiunto e la cosa secondo me che ci balza più all'occhio è il fatto di aver raggiunto questo obiettivo della serie B in un posto dove comunque la serie B non c'è mai stata, quindi questa è la cosa secondo me che ci fa più piacere, ci gratifica, però è quella che ci fa avere adesso più attenzione per quello che dobbiamo prepararci a fare. Secondo me questa differenza stiamo cominciando a vedere e ci è voluto un po' per capire quello che abbiamo fatto. Ecco, l'obiettivo è stato raggiunto, quando è che avete capito che questo obiettivo si poteva raggiungere e quando e se avete avuto paura che questo obiettivo potesse scivolarvi di mano? In realtà ogni stagione è fatta di vari passaggi chiavi, importanti, devo dirti che già in ritiro noi dello staff avevamo un obiettivo molto forte, che non era solo quello di migliorare il quinto posto dell'anno scorso, cosa che è un obiettivo chiaro che la società ci aveva indicato, ma in cuor nostro, ma come in cuor suo del Presidente, che questo miglioramento di questo quinto posto ci portasse a vincere il campionato, ce l'avevamo. Siamo partiti con questa mentalità, con questa idea, cercando di trasmettere alla squadra di non accontentarci, con grande umiltà, però di vedere quanto potevamo migliorare questo posto. Dentro di noi questa ambizione ce l'avevamo, questo fuoco ce l'avevamo, anche se siamo dovuti partire in una situazione in vista prendentella, ma non perfetta, nel senso che comunque due giocatori come Decolle e Zampano, che erano stati due elementi importanti, erano giustamente, meritatamente, come motivo di orgoglio e del nostro lavoro, venduti a una squadra di Serie A. Sono due giocatori veramente molto difficili da sostituire. Abbiamo avuto la sostituzione di Vannucchi, quindi un trequartista, un ruolo chiave nel nostro modulo, che purtroppo Aden non ha potuto aspettare nel massimo le sue potenzialità, per colpa di nessuno, per sfortuna, per la situazione di infortuni che ci ha portato per mesi, averlo non in grandi condizioni. Quindi insomma, Marchi che rientrava da un crociato, probabilmente siamo partiti, che se devo dire, dal punto di vista giornalistico, leggermente meno forti dell'anno scorso, però avevamo un grandissimo vantaggio, che è il lavoro che la società ci ha permesso di portare avanti da più tempo. E quindi questa cosa qua ci ha rafforzati, ci ha migliorati come gruppo, ha fatto crescere giocatori che, stando più tempo insieme a noi, hanno potuto esprimere al massimo le loro potenzialità. Vedi Di Tacchio, che è arrivato l'anno prima gennaio dal Perugia, sfiduciato, sovrappeso, quindi questi sei mesi dall'anno scorso gli sono serviti per presentarsi quest'anno in condizioni migliori rispetto all'anno scorso. Cesare e Russo un anno in più insieme, quindi un mix di cose che hanno fatto sì che siamo diventati squadra e abbiamo vinto un campionato non per un discorso dei singoli, ma proprio perché abbiamo potuto portare avanti un lavoro di più tempo insieme. Questo direi che è uno dei grandi meriti, secondo me, che ha la società, che ha il Presidente, che è quello proprio di fare le cose con molto equilibrio e non cambiare tanto per cambiare, ma cercare di proseguire con le persone che quando dimostrano di avere dei valori, dà fiducia e il tempo lo hanno ripagato di queste sue scelte molto equilibrate, molto intelligenti e direi anche molto professionali. Sergio? Quando siamo partiti per il ritiro, in cuor nostro avevamo l'ambizione e la voglia di provare a fare qualcosa di più dell'anno prima, che poi era quello che ci aveva anche chiesto un po' la società, perché comunque l'anno prima era stata una bellissima stagione, siamo andati ai play-off a Lecce, però comunque avevamo perso e conoscendo il mister, che è uno che non si accontenta mai. Quando siamo partiti in ritiro, ce lo siamo detti, abbiamo il nostro blocco di giocatori, comunque il lavoro degli anni precedenti era molto importante quando siamo partiti quest'anno, integrato con altri giocatori funzionali al nostro progetto già precedente, sapevamo di poter fare qualcosa di più. Sicuramente non pensavamo al primo posto, pensavamo magari a dei play-off e provare ad andare avanti nei play-off. Durante il ritorno secondo me ci sono stati dei momenti chiave, molti parlano di partite, io con Luca, quando siamo riusciti un po' più a mente lucida a goderci questa vittoria di campionato, abbiamo trovato altri momenti chiave, che sono più che altro fuori dal campo. Sono stati tra il primo e il secondo tempo con il Vicenza in casa, quando perdevamo 1-0, che è stato un intervallo molto importante per la nostra stagione, siamo rientrati in campo, abbiamo trovato il pareggio con Cesaro, con la prima linea finita 1-1, abbiamo tenuto il Vicenza fuori dal primo posto. Poi mi ricordo la settimana dopo la sconfitta di Bergamo, c'era una settimana di sosta, è stata fatta una settimana molto importante con la società, lo staff e i giocatori, probabilmente forse la più brutta partita della nostra gestione di tre anni a Bergamo, ma ci siamo rialzati subito vincendo in casa. E poi ovviamente la settimana chiave è stata quella l'ultima, quella che ci ha portato alla partita con la Cremonese, dove secondo me è stato fatto tutto alla perfezione. Questi secondo me sono i momenti chiave di questa stagione. Sono stati dei momenti più fuori dal campo, ma questo secondo me qui all'Entella è abbastanza significativo, perché come dice sempre il presidente che parla di una grande famiglia, secondo me i momenti fuori dal campo sono stati molto importanti questa stagione. L'anno scorso si diceva che voi giocavate bene, però poi vi siete piazzati in una posizione onorevole, poi è arrivata anche la sconfitta di Lecce, mentre qualche tifoso diceva che quest'anno giocavate meno bene, però la cosa che mi colpiva è che tu spesso dicevi che questa è una squadra fatta di valori importanti e non ti limitavi a dire sul fattore tecnico, tu parlavi proprio di valori umani. È una prerogativa, c'è un obiettivo che in tutti questi anni che come staff da quando alleniamo abbiamo sempre cercato, rientra molto nei luoghi comuni quello di cercare degli uomini prima che dei grandi giocatori, ma è veramente così, questa ricerca viene fatta in un modo molto specifico e molto approfondito, non sempre si può azzeccare la scelta, ma la maggior parte delle volte l'aspetto umano quando non abbiamo sbagliato ci ha dato tantissimo e comunque in questo, parlo proprio in questo percorso di tre anni, questo aspetto è stato determinante, proprio perché come diceva Sergio, la differenza l'abbiamo fatta fuori dal campo per poi fare la differenza in campo, ti riporto per esempio una situazione, la Cremonese è andata in ritiro giovedì, ha giocato ieri a Bolzano e ha perso 2-0 malamente, il ritiro si è fatto dai giocatori, non porta a niente, si è fatto dagli uomini, ti porta a qualcosa, noi abbiamo vinto a Cremona un minuto dopo aver perso in casa con la Provercelli, è stato nelle spogliatoi, c'è stato un giocatore, Cesar, che ha detto delle cose da uomo, l'allenatore ha chiamato la squadra e la squadra addirittura, un giocatore mi ha detto, mister, no martedì andiamo via lunedì, quando vuole, perché era non un ritiro, era proprio la necessità di stare assieme e di confermare quanto come gruppo di uomini erano veramente forti, perché quello che abbiamo fatto è andare a vincere Cremona, nella situazione che ci eravamo trovati, che ci eravamo messi, poi lì possiamo parlare di ore ed ore del perché di quel mese negativo, ma quello che abbiamo fatto a Cremona è rarissimo, perché trovarti a perdere 8 punti su 9, arrivare in quella situazione con delle condizioni di tantissimi giocatori che hanno messo la faccia quando erano in condizioni fisiche pessime e di andare a Cremona, di andare in svantaggio, avrebbe ammazzato un toro, di entrare nello spogliatoio e con una calma, una tranquillità e una convinzione, sapevamo che l'avremmo ribaltata e ribaltare la partita, ribaltare la partita con i due centrocampisti che il lavoro che in settimana in ritiro abbiamo fatto di più, con Staiti che dopo 3 anni che era qua e quest'anno non aveva fatto un gol, mi era cresciuto tantissimo, non è un caso, ritengo che lì è stato fatto un lavoro da parte di tutti, ma poi dico della squadra perché la squadra rispondeva a questo tipo di sollecitazioni, la squadra ha sempre risposto alla consapevolezza che essere gruppo, noi abbiamo fatto 14 gol con i giocatori entrati dalla panchia, non può essere un caso, vuol dire che i giocatori che subentrano sono dentro un progetto, si sentono partecipi, coinvolti. Devo dirti che anche quel mese negativo, sicuramente quando parlo di mentalità che deve cambiare, che deve crescere, è chiaro che il tifoso vive di passione, vive di cuore, è bellissimo, però bisogna un attimino approfondire un po' di più quello che succede. Noi abbiamo perso San Marino dopo che arrivavamo da 4 vittorie consecutive e 4 vittorie consecutive era il massimo che una squadra è riuscita a fare in questo campionato, siamo riusciti noi e l'altro Adige. Voglio dire, non si può sempre, non si può pensare che fai 20 partite senza perdere, noi abbiamo giocato 80% delle partite con 2,93, noi avevamo in questa squadra di giocatori che fino a 18 mesi fa in C1 non avrebbero avuto una richiesta, allenatore compreso, perché i paroni sono diventati la Serie B ma un anno e mezzo fa non erano distraiti e Michele Russo è normale quello che ha fatto, adesso è diventato la normalità delle cose che sono straordinarie, i Cecchini, i Moreo che arriva dalla Serie D, noi abbiamo vinto con queste squadre, abbiamo giocato la penultima in casa con la Provercelli, che in campo c'era la Provercelli, aveva 9 undicesimi che l'anno scorso giocavano in Serie B, Ventella 2, allora bisogna avere una fotografia importante, qui ripeto, ringrazio, ringraziamo perché ci hanno permesso di lavorare, ma poi abbiamo lavorato bene, ma dico ma bene, bene, bene. Sergio? Ma il discorso del ritorno diciamo che è stato un po' il periodo negativo, periodo negativo per i risultati così, però se noi facciamo la classifica del ritorno, Lentella è terza, cioè primo l'Alto Adige con 30, secondo la Provercelli con 28 e terza Lentella con 25. Noi nel ritorno abbiamo fatto 23 gol su 15 partite, quindi 23 gol è una squadra sana, quindi ci vanno anche equilibrio e lettura dei numeri per capire un po' i momenti dei campionati. Sul discorso che accennavi prima del gioco, è vero che noi l'anno scorso giocavamo meglio, questo è sicuro, però una cosa che ci siamo prefissati a inizio anno col mister era quello di subire meno reti dell'anno scorso, cioè noi se volevamo fare qualcosa di più dobbiamo subire meno gol. Vado a memoria, mi sembra 36 contro 24, quindi 12 gol in meno abbiamo subito, e sono tanti, obiettivamente sono tanti, ed era uno dei motivi per poter migliorare la nostra classifica, perché la lettura dei numeri delle classifiche degli anni precedenti dicono che le squadre che arrivano nelle prime subiscono meno gol, questo è che sono dati. E ovviamente abbiamo dovuto dare qualcosa meno allo spettacolo, ovviamente, perché abbiamo dovuto magari obbligare gli attaccanti a difendere di più, proprio dal punto di vista tattico parlo, quindi a un dispendio di energie maggiore e magari a meno lucidità per lo spettacolo e per la fase offensiva. Però è stata una cosa voluta, quindi c'è un lavoro dietro che voleva portarci a questo e questo è stato raggiunto. Ecco, il tifoso che va allo stadio si limita a dire che è la partita più bella, più brutta, però a livello tattico la partita che vi ha dato maggior soddisfazione? Dici quest'anno? Sì. Venezia sicuramente è stata una partita… Sì, beh, in Venezia abbiamo fatto una partita dal punto di vista difensivo di grande livello. Sì, abbiamo fatto secondo me quest'anno delle grandi partite dal punto di vista proprio degli atteggiamenti, dal punto di vista della mentalità. Abbiamo giocato molte partite bene per un discorso di test, di consapevolezza, di voler raggiungere quel tipo di obiettivo, di voler raggiungere il risultato. Perché se parliamo di partite dal punto di vista tattico, secondo me negli anni precedenti ci sono state partite che uno poi, il tifoso non si ricorda, ma con il Sant'Arcangelo in C2, qua c'era stata una partita sia anche per merito del Sant'Arcangelo, bellissima dal punto di vista tattico, ti dico questo perché nella nostra preparazione di questa partita siamo proprio dovuti mettere molto per la grande capacità degli avversari. Sto parlando proprio di partite tattiche. Sì, 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 sì. Anche con Tiroli in casa forse. Sì, però è chiaro che l'importanza della partita... Sì, è più mentale. Ecco, farei veramente, risottolineare il fatto che siamo stati molto forti dal punto di vista mentale, molto concreti, molto... D'altro nel Presidente mi ha chiesto di riportare la gente allo stadio all'inizio, di far giocare bene la squadra, di portare dei giovani in prima squadra e poi un domani di vizio. Quindi a seconda di quello che chiedeva, noi siamo andati avanti i tre step. Sulla gente allo stadio, io vi ricordo, Entella, Leccola, prima che siamo arrivati qua, io mi siedo in panchina vicino a lui, il mister che è uno che queste cose qua le vede subito, di là ci sono dalle 15 alle 25 persone. E io, parlo ancora del primo anno, l'ultima partita in casa con Rimini, tutto esaurito al venerdì, no? Sì, sì. E questa è stata una delle cose, delle soddisfazioni più belle che abbiamo avuto noi. Quando siamo arrivati qua. La società voleva questo, riportare la gente. Questa è stata la cosa, al di là dei risultati, proprio l'aver... Poi hai cambiato tutto, è chiaro che adesso vivi, ti senti l'allenatore o ti senti di giocatore come fossi allenato in una grande città, perché è incredibile quello che vivi, sicuramente è stato molto bello. Abbiamo fatto 169 punti in tre anni, su 100 partite, abbiamo tenuto una media incredibile, un punto 60 partita, 45 in casa, abbiamo fatto delle cose pazzesche, insomma. Quindi i numeri sicuramente ci hanno premiato, ma hanno premiato tutto, ma ripeto, perché parte dalla possibilità che ci hanno dato di poter lavorare in un certo modo. E se c'è un altro particolare importante, che in questa società, in questo ambiente, ci si riesce a rialzarsi quando si cade, perché poi la più grande capacità che bisogna avere è quella lì, perché nel cadere, nelle sconfitte, capitano tutti, ma la grande capacità è di rialzarsi dopo che si è accadute lì, il grande valore che può avere una società, dei direttori, lo staff, quindi di conseguenza tutte queste cose che vengono trasmesse alla squadra. Cioè fare delle analisi molto chiare, molto precise, molto dirette sul perché hai perso una partita e cercare di avere idee e soluzioni per rialzarti dopo una sconfitta. Noi su queste cose qui siamo stati sempre molto, però il nostro messaggio dipende da chi viene ricevuto, ricepito. I giocatori nostri erano veramente di altissimo spessore sotto questo aspetto, che noi non abbiamo mai all'interno del nostro operatorio avuto un minimo problema, perché non vuol dire non affrontare le cose, ma le affrontate sempre con un equilibrio, una serenità, con un rispetto di ruoli, con grande credibilità nei nostri confronti e noi con grande credibilità in quello che facevano i giocatori e che abbiamo creato una sintonia. Noi siamo attivi a mercoledì sera, tutti i ragazzi che piangevano, parliamo alla fine anche se a me è una parola che non piace dire di professionisti, che nella loro vita sono stati un anno al nord, un anno al sud, un anno al dorsino, un anno in argentino, quindi che vivono anche il calcio come un lavoro. Noi siamo molto contenti che gli si illuminano ancora gli occhi a certi giocatori, vuol dire che la passione e l'emozione di un gol di una partita, sicuramente questi giocatori l'hanno recepita, ce l'hanno dentro e il nostro messaggio è stato trasmesso. Tiro contro questo aneddoto, noi a Gennaio volevamo prendere un giocatore della Rocca, che poteva essere il giocatore che tutte le squadre di prima faccia per cercare di vincere un campionato lo volevano prendere, le scarpe l'anno scorso, io poi vivo molto come lui di sensazioni, nel senso, un giocatore quando ci parliamo percepiscono, non so, quando parlavi con Ricciuti aveva delle sensazioni positive di temperamento, di passione, non era un vecchio venuto qua a svernare, aveva alla gara dentro, poco dentro, mi ricordo che a un certo punto questo della Rocca gli dico, cerco di non essere ormai banale in questi discorsi perché non mi piace tanto, gli ho detto, senti una cosa, di là di tutte le cose, ma tu ti emozioni ancora per un gol, piangi, non dormi la notte, se tu vieni a Chiave il primo febbraio, per quattro mesi come noi, non dormi alla notte pensando che se portiamo la squadra in Serie B è una cosa che noi nella vita non vorremmo altro, se non oltre la salute, tu ce l'hai questa cosa? ma io sono contento, sicuramente è un grande progetto, non è così, allora mi tengo Marchi, mi tengo quella gente che sai che ti dà tutto di più, Troiano, insomma, ma tu, fare dei nomi sarebbe sbagliatissimo perché non saprei dire chi non è stato coinvolto, chi non è stato un vero protagonista di questa, è nata nel modo in cui noi piace fare calcio, cioè che ci sia ancora veramente un brivido e che non sia tutto riportato a suo olio, televisione, cose per essere, noi veniamo da quel calcio lì e vogliamo vedere, c'è una bellissima frase di Sars e Cosmi nel L'uomo del fiume, il suo libro ti consiglio di leggerlo, per noi che arriviamo dai dilettanti, che spiega molto bene la sua storia, il suo percorso, fatto veramente molto bene, lui a un certo punto in questo libro esce con questa frase che riassume un po' tutto il percorso e noi ci troviamo molto, lui dice gli occhi di un giocatore dilettante sono molto diversi dagli occhi di un giocatore professionista e noi abbiamo trovato dei professionisti con degli occhi dei dilettanti, inteso come il dilettante che gioca per diletto, passione per amore, tra l'altro mi approfitto per fare i complimenti a Levi che ha vinto il campionato, sono molto contento, sono stati sempre gentili e ospitali con noi nell'ambiente e mi fa molto piacere di questa loro vittoria, quindi so che cosa vuol dire in quei campionati visto che ci siamo passati, il sapore che ha, è un sapore bellissimo, straordinario e stamattina ti svegli magari per andare a lavorare e voli un metro da terra, è veramente molto bello, noi abbiamo cercato di ricreare questa cosa qua con il grande appoggio della società. Ascoltate, la classifica finale dice appunto Provercelli secondo posto ma era la più forte o la Cremonese effettivamente è stata la delusione? Allora, come squadra secondo noi la Provercelli, la Cremonese e il Vicenza in valore assoluto di giocatori erano le tre squadre più forti, questa è la realtà ma è così, non è che lo dico perché poi noi abbiamo vinto, allora voglio gratificare di più il nostro obiettivo, è la realtà del valore assoluto delle rose delle squadre, se noi prendiamo queste tre rose e facciamo dei numeri proprio banalissimi delle presenze di questi giocatori le portano alle prime tre, se invece parliamo di squadre in campo, di quello che hanno fatto sicuramente tra queste tre la Provercelli era quella più solida, quella che anche aveva mantenuto comunque un'ossatura dell'anno scorso di B, quindi questo ha facilitato a confronto a Cremonese e a Vicenza la Provercelli perché comunque la Cremonese ha cambiato molto, il Vicenza arrivava da una retrocessione con qualche scombussolamento quindi ha avuto qualche problema iniziale sicuramente, io penso che poi adesso anche i playoff stanno dicendo quello, che la Provercelli abbia delle possibilità di salire tramite i playoff quindi alla fine, quasi sempre alla fine le classifiche non mentono, l'Entella ha vinto il campionato secondo me con merito e probabilmente la Provercelli vincerà i playoff con merito. Adesso Luca rispondi tu, torrente, gattuso, vecchi, insomma sono girate voci, poi il preste ti ha confermato in piazza, ma per farlo sapere alla gente, ma probabilmente tu lo sapevi già prima, ti ha fatto male leggere o sentire certe voci? Mi hai fatto bene, è un gran segno, vuol dire che sono cresciuto tanto, è un gran bene, è un'emozione forte, pensare che adesso fai parte, uso sto termine, degli allenatori grandi, che comunque vivi queste concorrenze, questi raffronti, fa star bene perché fa parte del gioco, fa parte morto, che è sempre andato avanti in un modo chiaro, che quindi alla fine sapevo quello che era il suo pensiero, che è l'unica cosa che conta, ma se devo dirti, tra tutte le cose c'è una frase sua che riassume quello che sono io, e lui è talmente intelligente, adesso mi conosce molto bene e sa che quella è la cosa che più mi ha fatto piacere, che quella che lui ha detto semplicemente, qui a Lentella vige la meritocrazia, punto. Ci sono due categorie di allenatori, quelli che lavorano da agosto a maggio e poi quelli che lavorano da maggio a luglio, ce ne sono tanti, io preferisco e cercherò di aggrapparmi con tutte le mie forze, sono allenatori che lavora con serietà, in silenzio, con massimo rispetto di me stesso e degli avversari, però da luglio a maggio. E non c'è nient'altro da dire, perché poi io che ho un percorso, una carriera calciatore povera, mi ha fatto solo fino alla promozione, quindi non ho passato, ho dovuto aggrapparmi a ogni momento al presente, dimostrare che quello che avevo a disposizione è di giocarmelo nel miglior modo possibile. Io posso dire che ho scavalcato 13 categorie, partendo dai pulcini, arrivando fino alla Serie B. Quando sono stato nelle prime squadre ho vinto campionate, ho fatto i play-off, non sono mai retrocesso, non siamo mai retrocessi, punto. Questi sono i numeri, poi ognuno ne faccia a buon uso. Sono orgoglioso che una persona come Gozzi, con il quale mi dispiace solo non poter passare più tempo per i suoi impegni, perché per me è stato in questi anni un grande maestro, ho imparato ed imparo moltissimo da lui nella gestione, negli atteggiamenti, nella risoluzione dei problemi, però quello che mi gratifica è quello che lui pensa di me. E una persona come lui che fa quello che ha fatto mercoledì, io penso che sia motivo non di gratificazione ma di orgoglio per la persona Luca Prina, perché non è una persona molto discreta, non è uno sbandieratore, invece mercoledì sera mi ha gratificato dicendo alla gente quello che lui pensa di me, davanti a tutti in una pubblica piazza ed è stato un onore molto forte. Ecco, poi nel calcio si possono incontrare diversi tipi di presidenti, quelli competenti e non, ce ne sono tanti non competenti, però insomma confrontarsi con uno competente come Gozzi, perché è competente, insomma, non gli potete neanche raccontare quella dell'Uvo se dovreste raccontare quella dell'Uvo. Per me ti dico, ma meno male, ma meno male, ma per fortuna, ma di fatti uno dei motivi in cui veramente, per cui noi stiamo bene qua, è che io ho finito la partita in settimana, ma ti dico anche finita la partita proprio perché sappiamo tutti emotivamente come possiamo stare finita nella partita, questa persona che tra l'altro è il presidente, quindi insomma può anche permettersi qualsiasi tipo di esternazione, con il quale c'è sempre un confronto, parte seria ed equilibrato, ma fa delle analisi, che sono delle analisi di altissimo livello, quindi che per un allenatore sono bellissime, vede le sfumature, legge le sfumature, analizza le partite, non da tifoso, trasmettendo delle cose che solo gli allenatori vedono, che difficilmente poi si riescono a trasmettere, ma è anche giusto così, quindi io avere a che fare con gli intelligenti non ho mai avuto problemi, anzi è un grande vantaggio, quando che fare con gli stupidi è che diventa un problema, in questo caso qua, ti riporto, intanto sono di piccoli aneddoti, ma sono carini che danno un po' la fotografia, intanto penso che a fine anno sono cose che si possono dire, giochiamo in casa con la Cremonese, l'ultima di andata facendo 0-0, soffrendo, la Cremonese ha fatto una delle più belle prestazioni dell'anno contro di noi, e mi ricordo che lui, come sempre, ha finito la partita, viene da me e mi dice, certo mister, che differenza di fisicità tra loro e noi, era un'analisi sottile, aveva fotografato la grande differenza che c'era in quel momento tra i giocatori della Cremonese e i giocatori dell'entera, quindi non ho più baro, non ho meno baro, vedi erano proprio tanti di questi giocatori della Cremonese che hanno un percorso in Serie B, che quella domenica avevano trovato anche una partita di grande motivazione, però questa grande fisicità ti faceva capire perché l'ha preso quei giocatori della Cremonese, poi sono giocatori che non si sono adattati alla categoria, non hanno fatto per 30 partite, non avevano a rendere il nostro fuoco, non lo so, però aveva fotografato in un modo chiaro e preciso quello che era stata la tipologia di partita, quindi non rigori, non rigori, il fallo, ma lui è sempre così, non l'ho mai sentito, mai, fare una considerazione non condivisibile, mai. Sergio, la vostra è una squadra mediamente giovane, l'anno prossimo lo sarà ancora di più, immagino. Sì, ci sono delle regole innanzitutto di Serie B da rispettare, che sono quelli della lista dei vecchi, dei cosiddetti vecchi e dei giovani da far giocare, che è un che la società ci darà come input di far giocare. Sì, lo sarà anche di più, probabilmente però in questo campionato si può riuscire ad arrivare a dei giovani già di alto livello, di buon livello, quello che cercheremo di fare con la società. Il fatto dei giovani è sempre stato un filo conduttore nel nostro percorso di tre anni qua, gli esempi di Zampano e Decolle sono fin troppo facili da fare, però penso che rendano benissimo qual è il nostro lavoro sui giovani. Il mister è uno che è cresciuto con i giovani e è partito dai pulcini, come ha detto prima, ma quindi anche e soprattutto nei miei confronti è molto esigente sul lavoro sui giovani. Noi abbiamo, quest'anno l'obiettivo era troppo grande, probabilmente nel ritorno abbiamo dovuto un po' diminuire questo lavoro, però noi abbiamo dei lavori proprio specifici fatti sui giovani, crediamo molto nel lavoro con i giovani, i risultati soprattutto dell'anno scorso, come ho detto prima, su Zampano, Decolle, Macecchini stesso, Moreo comunque anche quest'anno, sicuramente sfugge qualcuno, Argeri, sì, sono stati importanti. Poi è proprio un buona filosofia, Staiti che ha migliorato tantissimo. Magari meno giovane, però sicuramente è stato fatto un lavoro specifico. Il giovane, c'è un altro esempio eclatante da fare, ci sono dei giovani di testa, ci sono dei giovani vecchi, due anni fa prendemmo Cesar, il valore del giocatore in Lega Pro era abbastanza conosciuto a tutti, un giorno parlando con un addetto ai lavori mi disse Cesar, bravo, ragazzo eccezionale e tutto, se cerchi un difensore però che vuole, hai bisogno di un difensore che ti costruisca l'azione da dietro, lui non è un giocatore che ha queste caratteristiche, questa era una fotografia di Cesar. Cesar è arrivato qua, quindi a 33 anni però, è un giovane vecchio, noi questa scelta di giocare molto da dietro, soprattutto in casa, era una nostra prerogativa, abbiamo sempre tentato di fare nel miglior modo possibile, lui si è messo a 33 anni, si è applicato con un'umiltà e un'applicazione incredibile. Uno che viene a vedere la partita di Cesar, dice guarda che bel regista difensivo, quindi a 33 anni quello che per qualcuno era un suo grande limite, nel giro di un anno per merito suo è diventato una sua grande forza. Ecco allora, avete parlato di Cesar, allora mi viene da chiedervi, ma è una domanda ovviamente simpatica, è Cesar che ha migliorato Michele Russo o è la presenza di Michele Russo che ha permesso a Cesar, nonostante l'età, diciamo così, di essere sempre buoni di parti? Ma sai, il calcio, la squadra è come un'orchestra, sarebbe come tu mi dicessi, ma quell'orchestra senza quella tromba, quel violino si sentirebbe bene, quel violino senza la tromba, la tromba non bisogna il violino, più noi bisogna la tromba, cioè è tutto, è un qualcosa di più, tutte e due, tutte e due quelle che hai detto, il bello è proprio quello, adesso parlavamo di Cesar, ma anche su Michele Russo dei miglioramenti direi ci sono stati, io personalmente me lo ricordo a Lavagna, quando ero in Serie D fisicamente era diverso, abbiamo di 10 kg di differenza, è migliorato tantissimo, io l'ho sempre detto e io stesso come tanti altri addetti ai lavoratori non credevamo che potesse raggiungere certi diversi, lui ti dico è un giocatore pronto per fare la Serie B, poi dobbiamo tutti dimostrare, però ha l'assoluta chance, perché se l'è veramente meritata, è un ragazzo incredibile, miglioramenti continui, una cultura del lavoro, anche questa freddezza, probabilmente deriva dalla mamma che è nordica, ma non è una battuta, lì c'è qualcosa lucido in campo, grande tecnica, ragazzo, per noi sono veramente quasi dei figli, che può essere una frase patetica, però per il loro comportamento, per il loro modo di fare, per le emozioni che abbiamo passato, perché attraverso uno sguardo ci si è sempre capiti molto, e poi sono ragazzi che meritano forte rispetto, Michele Russo per quello che ha fatto, per come è arrivato, per quello che si è guadagnato, merita veramente un fortissimo rispetto. E di Capitano Volpe cosa mi dite? Mi pare che ha fatto tutti i ruoli tranne il portiere, si è sacrificato. E' l'attaccante forse. E' l'attaccante. Gennaro, vabbè, rincarna noi come siamo fatti noi in campo, nel senso di spirito di combattente, battagliero, se ne è parlato fino anche poco dell'infortunio che lui ha avuto e del recupero che ha avuto, perché allora la prima diagnosi era stagione finita, questa è la verità del problema all'occhio che ha avuto, ha fatto un'anestesia totale, stiamo parlando di un'operazione non da poco e lui, non so, in due settimane era già al campo a allenarsi. Quindi diciamo che da quel punto di vista lì ci rincarna un po' come siamo fatti io e il mister come spirito battagliero in campo. D'altronde anche lui ha giocato tanti anni, per esempio i suoi campionati di serie B sono stati tanto dovuti proprio alla sua anima, al suo cuore, al suo temperamento, non sicuramente o comunque meno alle dotte tecniche, ma lui tra l'altro non è molto consapevole. Quindi se alla fine lui è un capitano importante come esempio, perché è sempre disponibile, mi ricordo per dirti il finale a Cuneo di play-off, ti ricordi quello stiramento? Sì. Stiramento ormai è fermo, fa di tutto per mettere la situazione in panchina, era in una condizione che non so quanti giocatori sarebbe messi a disposizione, siamo in difficoltà, perdiamo 4-2 quindi partita ormai chiusa, lo facciamo entrare, la palla non usciva, aveva talmente voglia di entrare che si è fatto munire prima di entrare in campo, sul 4-2 per il Cuneo, una partita che purtroppo loro stavano meritando ed era finita, però questo è uno spirito di Gennaro, poi è così, non è mai un caso, perché poi fa il terzino, fa la mezz'ala senza mai boh, a volte cerchi anche di parlargli, dici ma no ma io mi sto... A Venezia quando avevamo Di Tacchio squalificato, lui la settimana, l'ha già capito, doveva giocare davanti alla difesa, si è preparato senza dire una parola, ha fatto una partita a Venezia davanti alla difesa straordinaria, quelle sono le persone, i giocatori che ti fanno vincere delle partite, poi a Venezia si poteva magari avere delle difficoltà mancando Di Tacchio invece... C'è, intanto che poi tu sei un giornalista, scogliato le tacchine di Montagli, Gian Paolo Montagli, non Manuel Montagli, anche se Manuel... E' l'altro che potrebbe scrivere nel libro... Sì, decisamente, è vero... Sono molto intelligente. Montagli parla della squadra invisibile, nel senso che la squadra invisibile quanti punti ti fa fare, qui la squadra invisibile è intesa allo staff, tutte le persone che girano a turvotono, che non si... magari diciamo la gente così non nota o non pensa che ci sia, ed è anche intesa come quei calciatori che magari meno appariscenti, che sembrano che... ma dietro al... Il famoso lavoro oscuro... Il lavoro oscuro è importante ed è quello che fa la difesa, perché poi sei alla fine della partita, la domenica alle 15, e poi la conclusione di sette giorni di lavoro costante, quotidiano, che non è solo nell'allenamento, ma è prima e dopo, e poi sono veramente delle sfumature che ti fanno vincere il campionato di un punto, o perderlo di un punto, e probabilmente quel punto di differenza è nascosto dietro i Volpe. Avete già risposto, ma vincere un campionato senza un vero bomber non è facile. No, ma la risposta c'è in tutte queste cose che abbiamo detto, perché sei squadra. Noi abbiamo il giocatore che ha fatto più, quello che ha fatto sei gol, ed è il diciottesimo calciatore nella graduatoria, dei marcatori della Lega Pro 1. Mi sembra quattordici o quindici giocatori in gol abbiamo portato. Abbiamo portato quattordici o quindici giocatori in gol, quindi vuol dire che siamo squadra. Siamo squadra, abbiamo fatto in tre anni cos'è? Quest'anno non ha fatto gol Paroni. Ecco, Paroni è un leader silenzioso, perché poi anche lui come personalità probabilmente è anche cresciuto, però è sempre silenzioso, è sempre stato su... Sì, ma sai c'è tanti modi, io per essere un leader, io devo dirti che negli anni ho visto che i più grandi leader sono quelli che urlano poco. Il leader diventa attraverso l'esempio per il calciatore nei fatti, attraverso le parole dette, le parole giuste dette al momento giusto. Quindi delle volte la grande differenza tra essere autoritari o essere autorevoli, quindi il farsi riconoscere come leader o essere ad esempio attraverso le cose che dice, non attraverso il tono e il modo. Ma questo lo dico anche per me, perché negli anni è una delle cose che ho voluto e spero ancora di migliorare, perché non è l'urlo, è il fatto di come ti comporti, delle parole come le dici quando le dici. Paroni è uno che attraverso i fatti, con un grande silenzio, in questi anni magari anche vivendo qualche critica, mi ha sempre lavorato molto bene, sia con Casazza prima, sia adesso con Capece, quindi per lui sono stati due maestri molto importanti, spirito critico, equilibrio, sempre voglia di allenarsi, sempre al servizio della squadra, quindi è un po' appariscente, però un ragazzo importante. Ti posso dire un'ultima cosa su Andrea? Che il fatto di essere da sei anni nello stesso posto comunque qualcosa in più ti dà, perché io l'ho vissuto due volte, ho allenato nella squadra della mia città, avevo un'energia dentro che era incredibile. Sono da tre anni e qualche mese a Chiavari, come ne avessimo fatti trenta da quanto sono stati intense e da quanto sono stati gratificanti. e quindi anche per me adesso l'Entella è di più che una squadra. Maschel è un club, potrebbero essere. Quando inizia la stagione? Dove, quando? Avete già programmato qualcosa? 14 luglio. 14 o 15 luglio. Ritorniamo a Sondalo in ritiro e iniziamo quei giorni lì. Questo è l'inizio della nostra stagione. Esordio in Serie B per la Vieto Centella, per la città, per molti di voi. Ci sarà da migliorare, molti aspetti, secondo te? Beh, per quanto riguarda gli aspetti di nostra competenza, il salto è tanto, è alto, è forte. Adesso noi sabato abbiamo visto Novara Varese, quindi una partita di bassa classifica, ieri Spezia-Bara. Vedere Spezia-Bara ieri sera, quindi una partita di classifica medio-alta, un altro mondo. Un calcio molto distante. Anche perché il campionato di Serie B è un campionato stranissimo, dura tantissimo. Come hai detto tu, squadre che si devono salvare subiscono molte sconfitte, ma anche le squadre che vincono i campionati. Tolto il Palermo che è arrivato primo, la seconda in classifica ha perso dieci partite. È una cosa... Incredibile, un campionato diverso. Se cosa c'è, tantissima fisicità, proprio vedi c'è una differenza dal punto di vista, poco gioco, partite molto bloccate. Purtroppo. Eh sì, allora sabato te l'avamo a Novara, sei poi dalla tribuna, è tutto bello per il nostro periodo. Sì, sì, sì. Sì, si. Ti sembra bello il calcio, spettatori, così dopo aver vinto, vuole un po' da terra. Quindi partita difficile, bloccata, al primo tempo un tiro in porta. Soprattutto gli ho detto, Sergio, ma se noi non facciamo un tiro in porta di 45 minuti, i fischiano qua. Però è così. Non c'è stato un tiro in porta, ma perché è veramente dura, veramente dura. Le squadre sono organizzate. Paura di perdere. Paura di perdere, molto basse, molto organizzate. Gli attaccanti hanno fisicità, vivono un po' sosta fisicità, ma ha poco spettacolo, ricerca sulle palle inattive nel gol su quelle situazioni, ma è difficile. Ieri sera invece, Spezia Vari, un altro livello, irraggiungibile, però c'è che ti accorgi che noi siamo veramente distanti da un mondo del genere. Veramente distanti. cambierete qualcosa per questo campionato a livello tattico, a livello anche di lavoro, atletico? Sono tutte belle domande, mi piace quando queste sono domande specifiche, quale fa piacere rispondere. Allora, è chiaro che Sergio e io stiamo riflettendo molto e approfondendo molto su queste cose perché sono molto importanti. Il fatto che siano 42 partite con 7-8 turni infrasettimanali ci devono portare a fare dei ragionamenti con lo staff di preparatori diverso. Per gli obiettivi che abbiamo, che sono gli obiettivi di salvarci l'ultima giornata, insomma, questo deve essere una grandissima festa arrivare a salvarsi perché sarà un obiettivo difficilissimo ma secondo noi ce la faremo. Cambierà un po' l'interpretazione proprio perché sarà uno sviluppo dell'azione diversa, avremo il pallino del gioco in mano rispetto, non a quest'anno, rispetto a quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Tre anni. vorremmo cercare dal punto di vista tattico l'idea sarebbe quella di ripartire col 4-3-1-2 con il 4-1-4-1 come modulo alternativo però dipende da cosa il mercato i nostri direttori riusciranno a portare a casa perché c'è un inciso da fare sul mercato Lentella ma come è normale che sia fino a pochi mesi fa aveva un mercato di prima fascia per la Lega Po nel senso che la concorrenza era Lentella Cremonese-Vicenze insomma un giocatore poteva venire in una di quelle due tre squadre adesso noi entriamo in un mondo dove siamo veramente gli ultimi siamo veramente gli ultimi dal punto di vista dell'appeal dal punto di vista economico quindi c'è un mercato completamente diverso nel quale noi non avremo più le prime scelte ma avremo quello che gli altri lasceranno indietro dobbiamo essere bravi e fortunati però direi che Matteazzi superbiere grammatica sono delle persone molto attente molto intelligenti che sanno fotografare bene la situazione molto realiste e quindi noi siamo molto fiduciosi che tra tutti porteremo a casa dei giocatori o perché devono giocatori che devono riprendersi da un'annata negativa o dei giovani dove comunque abbiamo molte conoscenze molto alla fine riusciremo a fare un mix di squadra composto da giocatori motivatissimi e questo è importantissimo e di giovani bravi dicevo a Sergio l'altro giorno guardavo gli ultimi tre anni della serie B se tu guardi la classifica dei marcatori c'è una cosa stranissima giocatori che fanno bene un anno e l'anno dopo chi aveva fatto non bene l'anno prima e l'anno dopo lo vedi in doppia cifra cioè probabilmente le motivazioni il voler riscattare un'annata negativa sono motivazioni forti in questa categoria dobbiamo essere bravi ad andare a beccare quei giocatori ecco Sergio voi siete proprio una rosa ampia o una rosa ristretta allora di base di base siamo sempre stati per una rosa abbastanza ristretta ma per tenere tutti partecipi al progetto su l'accordo diciamo così sì ma che tutti non nini che tutti possano sentirsi partecipi cioè non ci è mai piaciuto mandare un giocatore 5, 6, 7 volte in tribuna di seguito ecco questa non è la nostra filosofia il discorso che facciamo prima sulle persone è proprio per avere delle persone che si sentano parte integrante di quello che è il nostro lavoro quindi su questa cosa qui siamo più per una rosa un po' più ristretta è ovvio che quello che diciamo prima 42 partite turni fra settimanali è fisiologico che la rosa in serie B dovrà essere un po' più ampia questo questo ne siamo consapevoli ma proprio anche vedere tutte le altre squadre si nota che in serie B le rose sono sicuramente più ampie che in Lega Pro quindi dovremmo ampliare un po' la rosa numericamente Luca anche tu preferisci un gruppo più piccolo quando parla lui come parlassi io quindi punto ascolta Luca tu sei di Biella siete di Biella il gruppo di Biella la biellese cosa mi racconti della biellese grande amore fra tifosi fra tifosi di squadre del cuore insomma ci capiamo eh sì se io lì poi queste sono magari qua il tigurio sicuramente magari non è una cosa interessante poi nel mio percorso però è interessante perché io e te spesso quando ci incontriamo mi racconti questo fatto che tu sei nato da Ultras questo non lo sanno tutti raccontalo un po' sì sì ma infatti quando parla non tutti gli aneddoti da Ultras che si possono raccontare siamo in fascia portetta ma è presente questa passione poi che con la quale viviamo adesso questo nostro lavoro di allenatore ha dentro un po' questi passaggi che ho fatto perché sono proprio nato innamorato di questo gioco forse in un modo sviscerato in un modo superiore alla media superiore alla media di quelli che sono già tifosi e quindi sono nato a cento metri dallo stadio una famiglia che ci sono vissuti a pane e calcio a cinque anni erano allo stadio sono stato sempre sempre allo stadio sono stato tifoso ho giocato nelle giovanili poi non sono andato in prima squadra sono stato tifoso la seguivo in tutte le trasferte più importanti penso che in casa sono stato 13 anni senza perdere una partita io ti batto vedendo la mia squadra ti batto complimenti amichevoli compresa più con aneddoti fuori cala trasferte bucando scuola su dei camion di fronte di tutti cresime cresime sono dei percorsi e poi forse la cosa più strana è che non so il perché è perché è strano questo percorso che ho fatto passare da essere così tifoso ad avere un interesse così per la figura dell'allenatore che mi ha preso vent'anni già avevo poi giocati ciò insomma fino in promozione quindi a livelli bassi poi mentalmente era un giocatore da amatori neanche la promozione perché non avevo niente del giocatore però avevo questa curiosità incredibile nella figura dell'allenatore quando giocavo le volte che stavo in panchina che succedeva sovente io mi ricordo che ero quasi contento perché mi sedevo vicino all'allenatore e avevo voglia di assorbire tutto quello che l'allenatore che avevo trasmetteva alla squadra avevo proprio il fascino della panchina poi a 26 anni ho potuto iniziare ma devo dirti che mi accorgevo che l'ho portato per fare questa cosa qua poi se penso a tutti gli errori le cose le esperienze che insomma ho fatto ripeto gli errori commessi il percorso ma è una cosa strana quella che ho avuto ma vuole idee chiarissime io già a 22 anni avevo voglia di iniziare ad allenare poi c'era insomma dirigenti che mi hanno quasi obbligato a dire gioca un po' anche se a livelli base perché giocare ti aiuta ma ti dico che a 24 anni lavoravo in un'azienda privata in questa azienda privata eravamo appassionati di calcio si faceva i tornei delle aziende io ero l'allenatore ho portato questa squadra ai campionati nazionali delle aziende facevo l'allenatore già lì avevo una passione era una cosa non dormivi anche dei dimmi assolutamente abbiamo vinto una finale mi ricordo e tu ho avuto dei crampi allo stomaco dopo dalla tensione e l'ho sempre vissuto così infatti ti dico io devo parlare col campo non posso parlare con le altre cose ma penso che questo oggi a noi ci dà tanto perché sappiamo sempre che abbiamo qualcosa in più da dimostrare da parte degli altri io se devo dirti alla fine perché la frase noi come tutti quelli dell'entella oggi la serie B non l'avete mai fatta per quanto mi riguarda sono più i vantaggi che gli svantaggi perché ogni volta che devo affrontare un qualcosa di nuovo per me è una forza incredibile come mi è successo nelle categorie dietro tutte le volte che devo affrontare un qualcosa di nuovo l'ho sempre fatto bene mi dà una motivazione e un'attenzione veramente veramente fortissima allora il messaggio è chiaro l'anno prossimo la stagionanza che inizierà sarà una stagione difficile penserete non più a campionati diciamo per lottare per qualcosa ma si lotterà per la salvezza però cosa vi sentite di promettere ai tifosi dato che siete persone concrete sì vado vai tu intanto prima di promettere chiedo una cosa assolutamente che secondo me sarà un fattore determinante che inciderà moltissimo sulla nostra stagione che la gente si renda veramente conto di dove siamo di quanto sarà difficile che apprezzi vive gode ogni momento di quest'annata perché sarà una cosa storica ma non sarà sicuramente una cosa unica quindi abbiamo bisogno che la gente ci applauda a un passaggio sbagliato che ci inciti ci appoggi quando siamo in svantaggio o dopo magari due sconfitte di fila questa è la cosa dalla quale dobbiamo partire poi noi quello che sicuramente promettiamo sono poche parole ma tanto ma tanto lavoro e che prima che ci scalfiscono sarà molto dura per tutti io non so se è giusto dire promettere l'unica cosa che posso dire che questa è sicura e concreta come dicevi tu prima perché siamo persone concrete è il lavoro il lavoro noi in tre anni qua abbiamo lavorato cioè sai da dove siamo partiti ne abbiamo parlato siamo gente che la sveglia suonava alle 6 del mattino alle 7 del mattino quindi questa è la nostra cultura di vita non di calcio proprio come siamo cresciuti come siamo stati istruiti quindi non so se è una promessa è una realtà quindi sicuramente il lavoro che abbiamo provato in questi tre anni che è quello delle poche parole ma di fatti di fare nel campo di di portare le nostre idee cercare di portare le nostre idee questa può essere una promessa sicuramente questo lo possiamo assicurare Luca concludo con te sei un grande appassionato di calcio locale ti sei appassionato al calcio locale del Tiguglio farei fatica ad appassionare al calcio c'è una cosa importante da dire su questo secondo me che parlavate prima della Bielese e so che il mister di questo concetto è molto apprezza molto quello che si può dire della Bielese è quello che si può riportare qua nel nostro territorio noi il calcio nella nostra zona è morto quando è morta la Bielese perché era un traino fortissimo per la nostra zona cioè quando c'era la Bielese era riferimento per tutto il calcio locale finita la Bielese il calcio locale è morto di conseguenza quindi il messaggio che vorremmo dire è che secondo me per la nostra calcio locale questa ascesa dell'entella è una cosa molto positiva molto positiva per tutto il sistema calcio Tiguglio ma anche più 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 vasto forse adesso io non so bene i territori però ecco questo paragone tra zona bielese e zona qui secondo me si può fare una zona vivace questa ma io soltanto leggevo un'intervista di compagnoli del presidente della Ravagnese e giustamente diceva cercheremo adesso abbiamo contatti con l'entella per i giovani ma è giusto che sia così proprio perché è un riferimento trainante aiuta gli altri a tenersi per meriti loro ma anche per quello che ti dà l'ambiente a livelli alti perché una zona piccola come questa è una zona stupenda questa lo dico sempre tenetevi tutto quello che avete anzi teniamoci perché mi sento mai del posto tutto quello che c'è perché la Ravagnese il Sesti Levante tutte le realtà comunque io non è che sono appassionato mi piace quel calcio arrivo da quel calcio lì raggio Garibaldi passavo i martedì a chiedere cosa ha fatto il fratello a Casazza passavamo dieci minuti a polemizzare o a commentare quello che era successo i Levy dove ci allenavamo col mister parlava passava si parlava a me piace tanto poi bomber come fai Gastrini sono tutti i ragazzi che insomma segui poi chiaro a volte mi fai vedere ho visto con Levy sette volte con l'inserimento del bomber che fa il centrocampista glielo dico sempre però mi piace io sono contento qualche replica lì che fate vedere che seguite molto io penso che sia una cosa bellissima sia un movimento molto bello e ti dico anche una cosa mi fa molto piacere quando a secondo delle partite quando vengono giocate nelle categorie promozione prima eccetera però i ragazzi che quando non giocano vengono vedi allo stadio a vedere a vedere Lentella questo è una cosa che a me fa fa molto molto piacere quindi il movimento è vero che Lentella è un riferimento però allo stesso modo è molto importante che ci sia questa base vera pulita sincera mi sembra fatta con molta passione anche molta molta competenza poi abbiamo il Bocca che mi retrocede in terza categoria lì l'ultimo mese tra Lentella che dò così il mio Bocca che era quando andavamo in trasferta aggiornavamo sempre sul risultato del Bocca e sul pulmo il samedi povero Caraffini la stagione tremenda è fatto come un calcio però insomma il calcio più bello è proprio quello bene siamo arrivati alla fine di questa trasmissione io ringrazio Marco Pinat in regia ringrazio i miei due ospiti due allenatori della Vieto Sentella Sergio Spalla e Luca Prina quindi grazie a voi mi è in bocca sarebbe da dire un'altra cosa ma in televisione non si può dire quindi rinnovo l'appuntamento con il punto spot vi auguro una buona serata e ci vediamo settimana prossima e ci vediamo